Se perdo tutto, amen. Ci ho guadagnato comunque un sa. Signori, ciao a tutti stasera, Seratona. Perché? Perché ho vinto ben 3 milioni al casino. Vedrete la clip dopo, ma in questi giorni abbiamo fatto anche altro. Abbiamo fatto un po' di recuperi, un po' di soldi in vita da poveri. Quindi, ecco qua, i soldi che abbiamo fatto. Ragazzi, beh, tutto è bene. Ciò che finisce bene. Perché cazzo mi hanno dato mezzo milione? Mezzo milione per aver partecipato a una promozione di GTA Online. Ah, perché non ho comprato GTA Plus. L'iniziativa è aver boicottato GTA Plus. E li abbiamo regalati noi. Manuel dice, sono stato io. Che figo, me ne dai altri 500 mila? Oh no, ancora? Sempre questa? Ma sempre questa mi capita. Quanti soldi ho in totale? Uuuuh, quasi 900 mila dollari, eh. Sto per potermi permettere il cosacca. Mi mancano solo un milione e tre, quattrocentomila dollari, una roba del genere. Perché ho aperto il telefono? Cosa devo fare? Ah, devo aprire il telefono. Vabbè, avremo partecipato a una promozione di GTA Online senza saperlo. Ovviamente, iniziamo subito cercando un caio pericco che qua... Non ce l'hai i cosacchi, non ce l'hai i soldi per il cosacchi. Eh, però posso upgradearmi il bunker? Sono entrati in un caio pericco e questo tizio ha avviato subito. Quasi non ci credo. Quasi non ci credo. No, ma veramente... Grazie, ghost lupo. Sei zitta. Ragazzi, è stata una breve felicità. Oh, abbiamo trovato... Grazie al... Signori, vi ricordo, se vi volete abbonare, grattiscono a Amazon Prime collegandolo a Twitch. Anche per vedere i video dedicati agli abbonati che escono sia su YouTube che su Twitch. Fate come Giusepp Alio che si è abbonato col Prime. Please don't kick me, I know how to do the heist. It's not my main account. Sì, sì, ha avviato! Zitti tutti, ha avviato! Cos'è? Lei che sono... Dai, che sono già ancora bagnato. Figlio di... Figlio di puttana. Bastardo. Sì, ma puoi avviare e puoi quitare. Almeno ormai che hai avviato, dai la possibilità. Sì, è un telefono. È un iPhone X. Telefono... Ma sono i 500.000 di prima? Ho ne ho ottenuti altri 500.000. Perché potrebbe essere andata molto bene la serata, senza neanche volerlo. Ovviamente Rockstar Games è tutto meritato, cioè, nel senso. Vediamo, se mi hanno dato un altro mezzo milione di dollari, rido. Ci ho sperato troppo. Vaffan... Rottalo! L'ho rotta! Eh, pesce di aprire la parte di Rockstar, vaffanculo. Ma no, però me li hanno dati i soldi prima. Sei solo invidiosa. Come cazzo ho fatto a non prenderlo? Parca puttana. Quando sei proprio ciecato... Devo distruggerla e basta, sta cosa. Devo distruggerla... Così? Quanto pare no. Vabbè, è uno. Ok. E per sopravvivere salirò in macchina. Per sopravvivere salirò in macchina. Vabbè. Quanto ho guadagnato da sta minchiata? Avrò guadagnato milioni di euro. Gli haters! Ma lo vado a picchiare. Brumotti! Ma questo c'è una taglia, non so perché non la segna. Però c'è anche una cassa, quindi... Le due cose combaciano. Mi rompi il mobile. Lo beccherò prima o poi. Prima o poi si dovrà fermare sto... Ma levati dalle palle. Guardi di merda. Buonasera Luca Morgante. Prima o poi esploderà sto bastardo. Oh! Pezzo di... Sbrulla. Sbrulla. Mannaggia tua madre. Vieni qua. Vieni qua. Bastardo. 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 Prima o poi tanto muori. Prima o poi morirai. Vabbè. Prima o poi lo blocco in qualche modo. Lo blocco in qualche modo. Scendo e gli sparo. Mannaggia la puttana. No, no, no. C'è il coso lì. C'è il coso. Vabbè. Tanto devi uscire, bastardo. Tanto devi uscire. Non c'è niente da fare. Io la taglio e me la prendo. Aspetta che sta arrivando un altro tizio. Che non mi piace. Devi morire. Ma sei proprio scemo. Chi? Ok. Ho preso i miei 9000 dollari. Lotta tra business. Le donne. Quando le donne parlano senza essere interpellate. Ti danno proprio il fastidio. Ovunque sarai. Ti ruberò. Il carico. Il carico a capo. Nei jambemà. Ah, nei jambemà. Una figura retorica. Il carico scarico. È uno simoro. No, aspetta. Non era proprio così. Ma un culo. Minchia c'è mezza lo santo. Sta a ammazzare qua. Porca puttana. Guarda. Gisbardo. Gisbardo. Basta. Ma tua madre quella gran. Non ci l'hai? La mamma non ci l'ha. No. No, regà. L'altra sera Manuel ha fatto una battuta. Di cui si è pentito subito dopo. Stavamo pagando. E ha detto. Mi ricordo che ha detto. Pago io. E ha detto. Sei paghi tu. Casomai paga tua madre. E Manuel mi fa. Ah, sei solo invidioso. Perché tu non puoi dirlo. Ma si vede sfogato. 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 Sono un po' inculato. Mi sono fregato col mio stesso Night Shark. No, ci passo. Non ci passo. No. Aspetta. Aspetta. Che sta arrivando gente a volermi ammazzare. Ma ce l'hai la Mark 2. Aspetta, 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 aspetta. Qua non ci l'hai. Non ci l'hai nienti. Ok. A posto. Andata. Oh no. Oh no. Oh no. Ancora qui spona questo. Ma che cazzo devo fare? Non ci l'hai nienti. Non ci l'hai. Vieni, vieni. Fanculo. Ok. A posto. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Vaffanculo. Non ci l'hai nienti. Ah. 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 Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Zitti tutti. Zitti tutti. Ah, come dicono i genitori in Veneto. Se qualcuno di voi è Veneto e è un genitore non proprio avvezzo con la tecnologia, lo saprà. Sei ongo. Sei ongo. Significa è lungo, sì è lento. No, infatti neanche io non mi sono mai fidato della lavatrice che parla. No, ma ha pagato. È che mi ha pagato un cazzo niente. Mi ha pagato tipo 15.000 dollari. Rientro hotel. Eh, l'avete mai visto? Forse è un easter egg di GTA 6. Due minuti e ventitré per sette chilometri si può fare. Concentrazione super. Zitti tutti che qua bisogna fare i soldi. Non avete capito un cazzo. Eh, mamma mia. Ma sono facilissime queste pro. 250.000. Benissimo. E allora andiamo in freemouth. Grazie Mattia. Sei il top. La campana di scuola. Non è abbastanza fish per giocare. Ah, sì. Tu dici? Tu dici che non ho abbastanza? Pezzo di merda. Vediamo se non ho abbastanza, eh. Ecco qui. Perfetto. Compriamo l'attico solo per giocare qua. Vai. Compra. Fanculo. Via. Acquista. Un milione e mezzo. Speso bene. Se vinco qualcosa. A fine di questo video vedrete la mia fortuna più grande al casino, ma se volete, anche voi tentare la fortuna vincendo qualcosa di effettivamente reale, potete vincere un gioco con il solito contest mensile di Instant Gaming o acquistare qualsiasi gioco, anche tra i più nuovi, scontatissimo, anche GTA V, a circa 9 euro per PC. Link di tutto qui sotto in descrizione. 10 all-in, vai. Dai, 50.000. Solo per te, Xulema. Questo è per te. Dammi un 3, dai. Un 3 o un 4. Mmm. Fanculo, 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 fanculo. Fanculo, 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 fanculo. Fanculo, fanculo. Fanculo, fanculo, fanculo. Dai, 10, 10, 10, 10, 10. No. 35.000, su. Va bene. Se magari mi dai un 3, sono contento, eh. Un 3. Benissimo. E allora raddoppiamo. Mmm, c'è un 10. Dai, raddoppio. Ok, raddoppio. Ci provo. Via. Sì, 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 sì. Sì. Fanculo. Sì. Sì. Va fanculo. 230.000. Attenzione. Fanculo, 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 fanculo. Non fare ventuno, non fare ventuno, non fare ventuno. Dai, dividi. Questo è il momento buono. Dai, un 4, per favore. Sì. Vai. Vai, vai, un altro 4. Questa non mi piace. Quindi non voglio niente. Su questa raddoppio, però. Ma questa volta... Mi gioco qui e poi basta. Allora, vai. 2500. Se perdo tutto, amen. Ci ho guadagnato comunque un sa. Ma fa il culo. Tutti quelli, tutti quelli, tutti quelli che dicevano, tutti quelli che dicevano, non recuperi il costo dell'attico, il casino, eh. Adesso non sento più il verso dei miei avversari. Due milioni e mezzo. Io, un intellettuale, compro l'attico, così poi con le scommesse mi recupero i soldi. Voi, plebe. No, ma li perdi tutti. Cheat. E adesso chi parla? Beh, l'ho detto, secondo la probabilità, se continua a scommettere, continua a vincere, no? Eh, vai, che c'è... Scusa, non sento. Non li recuperi i soldi dell'attico. Non li recuperi, scusa. Scusa. 3 milioni abbiamo superato di vincite stasera. 3 milioni. Ecco, questa credo sia stata la mia vincita più grossa al casino in assoluto. Non pensavo avrei vinto tanto quanto l'altra stagione, ma ho vinto addirittura di più. Li spenderemo nel prossimo episodio, ma intanto vi dico di scrivermi qui sotto nei commenti per cosa spendere questi soldi. Vi ringrazio per avermi subito finora e noi ci rivediamo. Alla prossima.